Ciao a tutti, io sono Laira e oggi sono da sola. In questo video voglio farvi vedere praticamente che aprirò le figurine dei me contro te e anche un braccialetto. C'ho già due braccialetti dei me contro te. Ah, e se il film non l'avete visto, io l'ho già visto, era bellissimo. Se non l'avete visto andatelo subito a vedere, correte, perché è bellissimo. E alla fine c'è una canzone nuova. C'è anche il balletto che ha fatto lui in un video, se li guardate, su YouTube. Adesso incominciamo. Allora, incominciamo dei braccialetti. Guardate. Questo è il braccialetto di lui. Guardate bene. È quello che si illumina al buio. Ah, e questi li ho comprati in edicola. Poi andiamo a vedere l'altro. Questo, quello di Sofficlone. Anche questo lo comprate in edicola. Adesso andiamo ad aprire questo. Allora, ho bisogno dell'aiuto della forbice prima di tutto. Allora, qua c'è un'altra figurina che vi daranno nella bustina dove troverete il braccialetto. Qua andiamo subito a vedere. Si apre da qua, penso. Ah no, tagliamo, facciamo prima. Ok. Aspettate. Che fatica. Guardate. Questo qua, guardate bene, l'avete visto? Questo è di Pongo. Se andrete a vedere il film, lo vedrete. Mettiamolo qua, ve lo faccio vedere l'ultima volta. Ok. Adesso andiamo ad aprire le figurine. Queste si apriano facilmente. Guardate bene, ho trovato dieci, la pagina dieci. Guardate. Ok. Un altro, guardate. Ok. Questo. Novantasette. La pagina è novantasette, ovviamente. Questo è bellissimo, ragazzi! E poi questa. Sessantanove. Adesso incominciamo ad attaccare questo e poi affineremo l'altro. Incominciamo da dieci. Aspetta che la andiamo a cercare perché era minore. Dieci! Vi guardatela? Ok. Andiamo a cercare pagina dieci. In questo caso, se non sapete i numeri e lo prendete, chiedete alla mamma. L'aiuto, ovviamente. Guarda, si aprono in un modo difficile. Io qualche volta chiedo aiuto alla mamma, ma sai, qualche volta ce la faccio perfettamente. Avete visto? Era pagina dieci. E lo dovete attaccare perfettamente. Tipo, io adesso ho sbagliato perché non sono molto brava. Ok, guardate. Ok. Adesso andiamo a guardare... Sessantanove. Guardatela bene. È glitterata! È bellissima. Sessantanove. Andiamo a vedere. Quarantotto... Oh no, c'è la doppia! Vabbè, la darò a una mia amica. Andiamo con 97. Guardatela bene. Ok. 97. 97. Dov'è la 97? Ah no, non sono ancora in 97 per quello che non la trovavo. Un'altra è doppia. Ma che cavolo, che sfortuna che ho! Andiamo... Guardate. No, al contrario. 129. 129. No, qua è 111. 129. Dov'è? Questa mi pare 120. Ah, eccola. Questa non ce l'ho, ragazzi! Bellissimo. Che fortuna. Io non riesco a aprire dei problemini, io, di solito. Ma lo sapete che questo album è bellissimo. Quando l'avrete collezionato, sarà ancora più bello. Che direte... Quando ce l'avete... Se lo conservate per quando sarete grandi, direte... Oh, ma che ricordo! Guardate, 158. Andiamo su.